Cozzia è sempre un po' il nostro riferimento perché è forse la realtà reggistica che più ci assomiglia nella qualità dei giocatori che produce. Diciamo che quest'anno la nazionale Nerventi scozzese è una internazionale interessante a parecchi giocatori che hanno già partecipato alle manifestazioni signores come la Celtic League o la Premiership inglese. Abbiamo fatto una buona partita durante sei nazioni, purtroppo abbiamo perso per dei particolari che ci sono costati molto, ci sono costati la vittoria, però sono sicuro che è una partita che possiamo giocarcela, possiamo puntare alla vittoria.